Ma è possibile che ogni volta che sei in un locale e incontri una ragazza carina? Quella magari ti guarda anche, ma se ne sta sempre lì sulle sue. E se non sei tu a prendere iniziative e andare a conoscerla, lei non fa assolutamente niente. Oggi sono qui per spiegarti perché le donne non fanno mai la prima mossa. E perché se aspetti che siano loro a fare la prima mossa, aspetterai all'infinito. Tranne in un caso che vedremo alla fine di questo video. Le donne non fanno la prima mossa perché è da sempre così. È l'uomo che deve prendere iniziativa. Può anche essere vero, amico mio, ma la situazione è un po' più complessa di così. I tempi sono cambiati. Le donne hanno preso consapevolezza di quella che è la loro forza in ambito relazionale. E in questa faccenda c'entrano anche loro. No, non mi riferisco agli smartphone. L'avvento dei social ha cambiato completamente quelli che sono gli equilibri tra uomo e donna. Hanno sì avvicinato le persone a livello comunicativo, ma le hanno distanziate a livello personale. Gli uomini sono sempre meno sicuri e meno virili. E cosa fanno? Approcciano le donne online perché non serve avere le palle e guardarle in faccia mentre le approcci dal vivo. Perciò le donne sono sempre più consapevoli della loro forza perché nel momento in cui mettono in mostra la loro bellezza sui social vengono bombardate da mitragliate di morti di figa che scrivono Ciao bellissima, sei fantastica, sei uno splendore, buongiornissimo, caffè! Apri una qualsiasi foto su Instagram di una ragazza carina e vedrai una sfinza infinita di questi commenti tristi. Accompagnati da migliaia di emoticon, tra le quali La fiata Uno dei più potenti anticoncezionali del ventunesimo secolo. Tutto questo ha creato una condizione tale per cui le donne aumentano in modo spropositato la loro autostima. E per difendersi da questi continui abbordaggi sui social diventano un po' più stronze, un po' più ciniche. E per questo non si sentono in dovere di interagire nella relazione uomo-donna. Per loro a tutto è dovuto. E solo perché sono donne si sentono in diritto di poter fare quello che vogliono. Perché sanno che quando mettono una foto un po' ammiccante vengono bombardate da commenti di tutti questi uomini. Per cui pensano Io non devo impegnarmi in una conoscenza perché tanto posso avere chiunque. Così ogni volta che un morto di figlia prova ad approcciarla online Perché amico mio, se nei post pubblici ci sono così tanti commenti da morti di figa immagina cosa succede nei messaggi privati. Anzi, in una prossima puntata del podcast di Gentlemind magari parleremo proprio di questo. Cosa le dici? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Dicevamo ogni volta che un morto di figa prova ad approcciare una donna online viene o rimbalzato o trattato come uno sfigato o ancor peggio totalmente ignorato. Questo perché appunto si sono create delle dinamiche che hanno portato la donna a credersi una semi-divinità che si sente in diritto di non dover far niente. Ecco perché si aspetti che sia la donna a fare la prima mossa. Hai perso in partenza amico mio. Inoltre, come accennato prima per natura è sempre l'uomo che deve fare la prima mossa. E ricorda che anche se sei abilissimo nelle dinamiche sociali e nel farti notare un minimo di interazione la devi comunque fare. Infatti, una donna, soprattutto se molto molto bella non verrà quasi mai da te per conoscerti. Ho detto quasi perché in effetti c'è un'eccezione a questa regola. Questo può succedere solo nei contesti in cui hai creato una reputazione sociale molto forte e conosci le donne non perché tu le vai ad abortare ma perché le conosci all'interno di un contesto protetto che tu stesso hai creato. Ad esempio, un locale dove vai spesso nel quale tutti ti conoscono, tutti ti rispettano e tutti sono consapevoli del tuo valore. E allora sì che in quel caso puoi aspettarti la prima mossa da parte di una donna. Ma se aspetti, amico mio, che una donna molto bella che non conosci e non hai mai visto in un locale in cui non conosci nessuno e nessuno ti conosce prenda e venga a conoscerti allora aspetterei all'infinito. Mauri, ma allora come potrai fare il primo passo senza risultare banale e scontato come tutti quei morti di figa che ci sono là fuori? Ebbene, c'è un segreto per farti desiderare da ogni donna. Vuoi scoprirlo? E allora non perderti questo video. Cosa aspetti? Corri a guardarlo!